Nidi mette a disposizione 35 milioni di risorse iniziali e aiuti adeguati per incentivare la nascita di nuove imprese e risolvere i problemi occupazionali. Rispetto alla precedente edizione ci sono delle novità. Lo scopriamo nel servizio di Marilena Farinola. Nidi si rinnova con un nuovo avviso da 35 milioni di euro. Lo strumento di agevolazione che incentiva l'avvio di nuove imprese anche in considerazione degli effetti provocati dalla pandemia mette in atto nuove strategie per risolvere i problemi occupazionali delle categorie più deboli, favorendo l'autoimpiego. Nidi è una misura che va a sostenere le fasce più in difficoltà e quindi è una misura che noi riteniamo sia estremamente utile. La nuova misura sarà attiva da giovedì 17 febbraio 2022 con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia. Partendo dalla versione tradizionale, Nidi si trasforma e si adegua ai tempi. A differenza della precedente edizione, varia seconda della composizione delle caratteristiche dei soggetti che intendono avviare l'impresa. Sono state individuate quattro categorie di destinatari delle agevolazioni. Le compagini giovanili, le imprese femminili, le nuove imprese costituite almeno per il 50% da soggetti svantaggiati e le imprese turistiche. Abbiamo voluto dare un focus maggiore ai giovani e alle donne. In questo momento dare un finanziamento che arriva fino al 75% a fondo perduto è un segnale importantissimo per due categorie in cui i dati ci indicano una traiettoria su cui dover investire, su nuove energie, su energie femminili. Ce lo dice l'agenda di genere, ma soprattutto consideriamo anche altre tipologie di categorie su cui vogliamo fare dei focus verticali. Penso al tema del turismo, penso ad altri soggetti che finora non c'erano e che sono considerati soggetti elegibili. Noi vogliamo investire sulla creazione di imprese e sulle idee che vengono anche dal mondo dei disoccupati, dal mondo dei precari, dal mondo dei professionisti che in questo momento non si trovano in una situazione di agio sociale e stilidandoli a immaginare una prospettiva nuova legata all'impresa. Un intervento da 35 milioni di euro che dà una copertura quasi integrale all'investimento e cerca di trasformare coloro che vivono una difficoltà occupazionale in imprenditori. La filosofia è la base molto innovativa perché non si rivolge ai tradizionali gruppi industriali per i quali ci sono già altri bandi, ma questa è una vera misura di riscatto.